Lo leggo, lo leggevo e spero di poterlo continuare a leggere perché poi mi ero anche un po' affezionato nel senso che era quello che accompagnava poi l'allenamento sul campo perché c'erano sempre i giornalisti del Romanista, il giorno dopo si aveva una sequenza molto vera di quello che era avvenuto, un giornale attento, un giornale che poi raccontava le cose che succedevano in campo e penso che fosse stato giusto poi dargli la possibilità di continuare a lavorare proprio in funzione di quelli che sono i nostri sportivi, il numero dei nostri sportivi come vogliono sapere, come vivono poi le situazioni della squadra, poi ho conosciuto anche qualche giornalista del Romanista e so che poi diventa anche un lavoro e il lavoro è una cosa da doversi difendere in maniera forte, soprattutto per questo mi dispiace. Grazie. 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 Grazie.